ed eccoci qua amici del convento di nonato al dinner and dance sabato notte insieme ad amanda isabella isabella perché bella non è isabrutta perché è brutta allora ragazzo da dove venite il brasil e du brasil vediamo du brasil faccio faccio il balletto di danza vai 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 guarda guarda ok a du brasil e du brasil con tanghi patonghi allora ragazzuola volevo sapere da te con chi ti sposi con francesco ti sposi con francesco francesco come si chiama e che cosa di bello questo francesco non ti posso dire che cosa di bello non si può sapere non si può sapere è un cactus è un cactus è un amante no 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 bravissimo veramente un bravissimo ragazzo bene ma lo sa che ti sposa con te certo hai chiesto tutto ho chiesto lui no ha chiesto lui ha chiesto lui ha chiesto lui ah sì ottimo allora da te vuole sapere da dove vieni precisamente io vengo da salvador bahia brasil e salvador bahia ci sono stato almeno mai detto bene ottimo allora ragazze guardate a casa perché sali salutiamo e facciamo un bellullo tutti i du brasil pronti uno due tre DUMBRAZIL